La soddisfazione professionale, anche per i nostri clienti, si è chiuso un capitolo. Dispiace che l'unico che vada in carcere domani sia Schettino. Da sempre abbiamo cercato le responsabilità della compagnia e degli enti certificatori. In altri processi stanno uscendo, emergendo fuori queste responsabilità. Il processo Concordia ha tracciato una linea che in altri disastri marittimi sta avendo un seguito. Nel disastro del Norman Atlantic a Bari, nel processo Jolly Nero, mercoledì prossimo ci sarà la sentenza. Ci sono già inchieste che coinvolgono Irrina e altri soggetti, Capitaneria di Porto, eccetera. In questo processo mancavano loro sul banco degli imputati.